Prova di registrazione video a 1080p con ZOOC Z1, smartphone by Lenovo, fotocamera a 13 megapixel, 1080p, dimensione massima, non è supportato il 4K Manca stabilizzazione ottica e anche digitale, infatti vedete va un po' a scatto ogni tanto e non riesce a gestire molto bene la luce Come vedete il cambio è abbastanza veloce ma va a sparare troppo i colori che risultano innaturali e in generale le parti più in luce vengono totalmente bruciate Andiamo qui a fare di nuovo un controluce che non è un grande controluce perché il sole è da questa parte ma nonostante questo tutto diventa fin troppo scuro quando andiamo in controluce Spostiamoci dunque in macro, ecco questo fiorino, tap per rimettere a fuoco, macro abbastanza buona nonostante i colori un po' troppo sparati come vi dicevo prima Torniamo sullo sfondo e andiamo a fare con un tap e poi andiamo a fare uno zoom che arriva fino a 6x Come vedete diventa molto molto pixelato quindi zoom che non funziona bene, digitale, 3.5x rimane comunque pixelato dunque uno zoom bocciato del tutto Per ultima cosa facciamo il classico pan prima un po' più lento e vedete qui come cambiano i colori e poi più veloce E andiamo a chiudere, questa era una prova di registrazione video a 1080p con ZookZ1 per Tondroid.net e guardate la recensione online sul nostro canale